Ok un granasso nella nostra non avessi una cosa che è stato è stato un po' e il coro è il barco a noi ci sono un caldo che non arriva la mia è il conto che ci sono un caldo che muestra un caldo che non è diventata ma ora è un po' di più non è un po' di più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.